Buonasera a Davide Pedersoli YouTube Questa volta sono piaciuto di presentare la leggera leggera e la versione semplificata del moderno Rolling Block. Sto riferendo al Mississippi Classico di Rolling Block Il riferimento tratta di una barra, di qualità PMG, solo 26 in. La piccola maggiore e l'alloy frame rendono il riferimento di solo 7,5 lb, mentre la meccanica inizia è fatta di stile e macchine di CNC, garantendo sicurezza con alta performance. Il stock, fatto di American Walnut, è completato con braccia, che dà questo modello classico la retrofascinazione delle scuole, tipica della fine dell'1800. I calibri disponibili sono 357 manuale, 45 long call e 4855. Ho spero che avete piaciuto guardare la presentazione e vi invito a stare con noi per la prossima. a presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.